Con le caratteristiche sociali, si può comprare solamente prodotti di amacuto basico. Come si può comprare frutta, verdura, carne, piscata, eccetera, cose di blacchi, juice, refresco, leche, però si può comprare altre cose di maniera, l'alcohol, carte di telefono, o tabacco. Un motivo non è principale di con noi abinco un carte social, in vez di, per esempio, si è di deposito e senza extra, arriva a un'quenta bancaria, si può comprare un carte social qui, si può usare netamente e con noi garantizzare, per sostituire le necessità basico per la comanda. Come si può usare il senso di potenza, per comprare altre necessità. Per esempio, se vuoi comprare il telefono di qualcosa di un altro comestibile, può usare il senso di potenza 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 di potenza. Per esempio, se vuoi comprare il senso di potenza di potenza,